Subito atti amministrativi che garantiscano la sostituzione dei medici. Vogliamo risposte subito per entori gli organizzatori del sit-in dinanzi alla direzione generale della ASL a sostegno dei nuclei di cure primarie. Una protesta molto partecipata e che pretende subito una soluzione. Nel comune dell'Aquila dal 2007 ci sono quattro nuclei distribuiti sul territorio comunale per assicurare la massima accessibilità delle cittadine e dei cittadini all'assistenza di base a ovest e est. Diversamente dalle altre ASL della regione Abruzzo, quella dell'Aquila avviato da due anni a questa parte per i sindacati uno smembramento dei nuclei impedendo la sostituzione dei medici prossimi alla pensione minacciando di fatto la fruizione di un servizio che preserva la salute di circa 50.000 utenti presenti sul territorio e che va avanti grazie al contributo delle giovani e dei giovani medici che hanno preso in carico gli assistiti già assegnati al personale in quescenza. Il definanziamento di queste strutture portato avanti dall'Aquila per cittadini e sindacati determinerà breve la chiusura di questi nuclei. La CGL che ha attivato tutta la battaglia non ci sta. Noi vogliamo risposte immediate. Sono due anni che aspettiamo la sostituzione dei medici. Questo ha garanzia innanzitutto di lavoratrici e lavoratori che lavorano all'interno dei nuclei di cure primarie che a breve rischiano il posto di lavoro. È una garanzia per i giovani medici che attendono appunto il subentro. È una garanzia per decine di migliaia di cittadini e cittadini che con i nuclei di cure primarie funzionali e in pieno organico riescono ad avere garantito il diritto alla salute. Speriamo di farcela perché lasceremo alle nuove generazioni, secondo il mio modesto parere, un disastro in termini di guerra, in termini di valori, in termini di occupazione, in termini di sanità. Oggi chi ha i soldi non è. Chi ha i soldi sicura, chi non ha i soldi muore.